9. Sulla piattaforma superiore dell'ampio ingresso dell'albergo, portata a braccia con tutta la poltrona su per i gradini dello scalone, circondata da un innumerevole e servile stuolo di lacchè, guardaportoni e donne di servizio, alla presenza dello stesso maître che era venuto di persona a ricevere quella visitatrice d'alto rango, appena giunta accompagnata da tanto strepito e confusione, dal proprio servito rame, da un'infinità di bauri e di valigie, troneggiava la nonna. Sì, era proprio lei, la ricca e terribile 75enne Antonida Vasilevna Tarasiviceva, gran signora e grande proprietaria muscovita, la babbulinca per la quale si erano spediti e ricevuti tanti telegrammi, che stava sempre per morire e non moriva mai, e che adesso tutta un tratto era venuta di persona a trovarci, piombandoci addosso come una tegola in capo. Era arrivata, anche se non con le sue gambe bensì trasportata in poltrona, come sempre in quegli ultimi cinque anni ma come al solito combattiva, aggressiva, sicura di sé, ben ritta nella sua poltrona, sempre pronta a gridare a voce alta e imperiosa e a prendersela con tutti quanti. Insomma, esattamente identica a come l'avevo vista prima, quelle uniche due volte che avevo avuto l'onore di incontrarmi con lei da quando facevo il precettore in casa del generale. Era ben naturale quindi che restassi liritto, trasformato in una statua di sale, dalla sorpresa. Eppure lei mi aveva scorto con quel suo occhio di lince, ad almeno cento passi di distanza, mentre la trasportavano nella sua poltrona. Mi aveva riconosciuto e mi aveva chiamato a voce altissima per nome e patronimico, giacché era sua abitudine non dimenticare un nome che avesse sentito anche solo una volta. E loro si aspettavano di fare i funerali a una donna come questa. Mi balenò in mente di vederla morta e sotterrata e di riceverne l'eredità. Ma sarà lei a sotterrare tutti quanti noi, albergo compreso. Dio mio e che cosa succederà adesso a tutti i nostri? Cosa sarà del generale? Lei è capace di mettere sotto sopra tutto l'albergo. E tu che fai, babbino? Te ne stai lì come un palo e sgrani tanto d'occhi? Continuava a gridare la nonna al mio indirizzo. Hai dimenticato forse come si saluta? Oppure hai messo su superbia e non vuoi più salutare? Ho non mai riconosciuta. Lo senti, Potapic? Ha aggiunto la nonna rivolgendosi a un grigio vecchietto in frac, con la cravatta bianca e una rose a calvizie, che era il suo maggiordomo che l'aveva accompagnata in quel viaggio. Lo senti? Non mi riconosce. Mi hanno già sotterrata. Mandavano un telegramma dopo l'altro. È morta o non è morta? Tanto io so tutto. Eppure, lo vedi, sono ancora viva e vegeta. Mi perdoni, Antonida Vasilevna, ma perché io dovrei desiderarle del male? Ho risposto allegremente, dopo essermi riavuto dalla sorpresa. Io ero soltanto stupito. E come potevo non stupirmi? È stato così inatteso. E cos'hai da stupirti? Sono salita in treno e sono partita. Nel vagone si stava comodi, non scuoteva affatto. Tu te ne andavi a spasso? Sì, sono andato fino al casino. Qui si sta bene, ha detto la nonna guardandosi intorno. Fa caldo e gli alberi sono così carichi di foglie. Questo sì che mi piace. I nostri sono in casa? E il generale? Oh sì, a quest'ora saranno tutti certo in casa. Ah, anche qui hanno i loro orari e tutto il cerimoniale. Si tengono su di tono. Ho sentito dire che tengono anche la carrozza, le seigneur russe. Si sono mangiati tutto e così se ne sono andati all'estero. Anche Prascofia è con lui. Sì, anche Polina Aleksandrovna. E il francesino? Beh, tanto li vedrò tutti anche da sola. Aleksiej Ivanovich. Mostraci la strada. Portami direttamente da lui. Tu stai bene qui? Non c'è male Antonida Vasilevna? E tu, Potapic, di un po' a questo scimonito, al cameriere che mi diano un buon appartamento, comodo e non troppo in alto, e fa subito portare lì tutta la roba. Ma perché si mettono tutti in mezzo per portarmi? Perché si ficcano tra i piedi. Che razza di schiavi! E chi è quello che sta con te? Ha aggiunto rivolgendosi di nuovo a me. Questo è Mr. Astley. Ho risposto. E chi sarebbe questo Mr. Astley? Un viaggiatore, mio buon amico e amico anche del generale. Ah, un inglese. Ecco perché mi fissa gli occhi addosso e non apre bocca. Del resto a me piacciono gli inglesi. Forza, portatemi di sopra direttamente nel loro appartamento. Dove stanno? La nonna è stata portata di sopra mentre io facevo strada su per l'ampio scalone dell'albergo. La nostra processione riscuoteva un grande successo. Tutti quelli che incontravamo si fermavano e ci guardavano con tanto d'occhi. Il nostro albergo veniva considerato come il migliore, il più caro e il più aristocratico di tutta la stazione termale. Su per le scale nei corridoi si incontravano continuamente signori imponenti e inglesi dall'aria grave. Molti dei clienti si informavano sul conto nostro presso il metr, il quale, dal canto suo, era stato molto colpito dall'apparizione della nonna. Naturalmente, a tutti quelli che l'interrogavano, lui rispondeva che si trattava di una straniera di rango, un russe, un comtesse, grande dame, che avrebbe occupato lo stesso appartamento che una settimana prima era stato occupato da la grande ducasse d'Anne. L'aspetto imperioso e autoritario della nonna, torreggiante sulla sua poltrona, costituiva il motivo principale dell'effetto prodotto. Ogni volta che incontrava qualche personaggio sconosciuto, lei subito lo misurava dalla testa ai piedi con uno sguardo curioso e mi chiedeva ad alta voce chi fosse. La nonna era di una razza forte e, sebbene non si alzasse dalla poltrona, tuttavia, guardandola, si capiva subito che doveva essere di alta statura. Teneva la schiena dritta come una tavola, senza appoggiarsi allo schienale della poltrona. La sua testa grande e grigia, dai lineamenti marcati, si teneva eretta e il suo sguardo si fissava sugli altri con un'altera aria di sfida. Era evidente che sia lo sguardo che i gesti erano assolutamente naturali. Nonostante i suoi 75 anni, il volto era ancora abbastanza fresco e la dentatura abbastanza in buono stato. Portava un vestito di seta nera e una cuffia bianca. «Questa donna mi interessa moltissimo», ha susurrato Mr. Astley mentre saliva la scala al mio fianco. «Lei sa tutto dei telegrammi», pensavo io, «e le è nota anche l'esistenza di De Grio? Ma a quanto pare, sul conto di Mademoiselle Blanche, sa ben poco. E ho comunicato subito questo mio pensiero a Mr. Astley. L'uomo è peccatore. Devo confessare che, appena superata la prima meraviglia, mi ero straordinariamente rallegrato del colpo di fulmine che sarebbe tra poco caduto sul capo del generale. La cosa mi eccitava e camminavo innanzi a tutti con aria straordinariamente allegra. L'appartamento dei nostri si trovava al secondo piano. Non ho annunziato la visita e non ho nemmeno oltrepassato la soglia. Mi sono limitato a spalancare la porta e la nonna è stata portata dentro in trionfo. Come a farlo apposta, erano tutti riuniti nello studio del generale. Era mezzogiorno e a quanto pare si stava progettando una gita alla quale avrebbe partecipato tutta la compagnia, chi in carrozza e chi a cavallo. Per giunta erano stati invitati anche dei conoscenti. Oltre al generale, a Polina, i bambini e la bambinaia, si trovavano nella stanza anche De Grio, Mademoiselle Blanche, di nuovo in abito d'Amazzone, sua madre, Madame Vauve Cominge, il piccolo principe russo e un viaggiatore tedesco, uno scienziato, che vedevo da loro per la prima volta. La poltrona della nonna è stata portata direttamente nel mezzo della stanza, a tre passi dal generale. Dio mio, mai più dimenticherò l'effetto prodotto da quella apparizione. Prima del nostro ingresso, il generale stava raccontando qualcosa e De Grio lo correggeva. Bisogna osservare che Mademoiselle Blanche e De Grio, già da due o tre giorni, chissà perché, si erano messi a far la corte al piccolo principe, a la barbe du pauvre general, e tutta la compagnia, anche se forse in modo un po' artificiale, sembrava nella più lieta e gioiosamente familiare disposizione di spirito. Alla vista della nonna, il generale si è fatto improvvisamente di sasso ed è rimasto lì, con la bocca spalancata e la parola tagliata a mezzo. La guardava fisso, con occhi sgranati, come una colomba affascinata dallo sguardo del basilisco. Anche la nonna lo fissava in silenzio, immobile, ma com'era carico di trionfo, di sfida e di derisione il suo sguardo. I due sono rimasti così a fissarsi in silenzio per dieci secondi buoni, mentre tutti i presenti osservavano un religioso silenzio. Anche De Grio, lì per lì, era rimasto sbalordito, ma ben presto, sul suo viso, si è riflessa una straordinaria inquietudine. Mademoiselle Blanche aveva sollevato le sopracciglia e aperto la bocca e fissava sulla nonna uno sguardo allibito. Il principe e lo scienziato, profondamente perplessi, osservavano tutta la scena. Lo sguardo di Polina esprimeva una straordinaria meraviglia e smarrimento, ma a un tratto si è fatta pallida come un cencio. Un istante dopo il sangue le rifluiva al viso incendiandole le guance. Sì, quella era proprio una catastrofe per tutti. Per parte mia non facevo altro che passare lo sguardo dal volto della nonna a quello di tutti gli astanti e viceversa. Mister Astley, secondo il suo solito, se ne stava da una parte in atteggiamento calmo e dignitoso. E così eccomi qua, invece del telegramma, proruppe finalmente la nonna rompendo il silenzio. Beh, non mi aspettavate? Antonida Vasilevna, zietta, ma in che modo ha cominciato a far fugliare il disgraziato generale? Se la nonna fosse rimasta in silenzio ancora per qualche secondo, c'era anche il caso che gli prendesse un colpo. Ma come in che modo? Sono salita in treno e sono partita. Che ci stanno a fare le strade ferrate? E voi già pensavate che avessi steso le gambe e vi avessi lasciato l'eredità? So benissimo che tu di qui spedivi telegrammi su telegrammi. Mi immagino che ti saranno costati un sacco di soldi. Di qui non costa mica tanto poco. E io invece mi sono messa le gambe in spalla e sono arrivata. E questo è quel francese? Monsieur De Grio, se non sbaglio. Oui, madame, ha preso subito a dire De Grio. E croyez? Je suis si enchanté. Votre santé. C'est un miracle. Vous voir ici. Une surprise charmant. Si, si, proprio charmant. Ti conosco bene io, buffone che non sei altro. E non ti credo neanche tanto così. E così dicendo gli ha mostrato il dito mignolo. E questa qui chi sarebbe? Ha aggiunto indicando Mademoiselle Blanche. Quella francese, vistosamente vestita in costume di amazzone e col frustino in mano, l'aveva evidentemente colpita. E forse una di qui? Questa è Mademoiselle Blanche de Cominge e questa è la sua mamma, Madame de Cominge. Sono alloggiate qui in questo stesso albergo. Ho risposto. La ragazza è sposata? Ha domandato la nonna senza far tante cerimonie. Mademoiselle de Cominge è nubile. Ho risposto io nel modo più rispettoso, abbassando discretamente la voce. È un tipo allegro? Lì per lì non ho capito la domanda. Non ci si annoia con lei, capisce il russo? Ecco, de Griot, per esempio, da noi a Mosca, aveva già imparato a pasticciare qualche frase. Li ho spiegato che Mademoiselle de Cominge non era mai stata in Russia. Bonjour! Ha esclamato a un tratto la nonna, rivolgendosi a bruciapelo a Mademoiselle Blanche. Bonjour, Madame! Si è affrettata a rispondere Mademoiselle Blanche, eseguendo un'elegante e cerimoniosa riverenza e riuscendo a esprimere con tutta l'espressione del volto e della figura pur sotto l'apparenza della massima modestia e cortesia, la sua scandalizzata meraviglia per un modo così strano di interrogare e di trattare. Ah, guardatela! Ha abbassato gli occhi e fa una quantità di smorfiete e di leziosaggini. Si capisce subito che tipo è. Deve essere un'attrice. Mi sono fermata in questo albergo al piano di sotto, ha aggiunto la nonna rivolgendosi improvvisamente al generale. Sarò tua vicina. Ne sei contento o no? Oh, zietta, creda pure alle mie più sincere espressioni della mia gioia. Si è affrettato a rispondere il generale. Era riuscito a riprendersi, almeno in parte. E siccome, quando se ne presentava l'occasione, disponeva di una parlantina facile, eloquente e perfino non totalmente priva di efficacia, così anche adesso si accingeva a sfoggiarla. Eravamo tutti così inquieti e dolorosamente colpiti delle notizie relative alla sua infermità. Ricevevamo continuamente dei telegrammi così allarmanti. Ed ecco che ora tutto a un tratto. Chiacchiere! Tutte chiacchiere! L'ha interrotto bruscamente la zietta. Ma come mai? L'ha subito interrotta a sua volta il generale, alzando il tono di voce e cercando per quanto poteva di non rilevare quel brutale chiacchiere. Ma come mai lei, tuttavia, ha potuto risolversi a intraprendere un tale viaggio? Ne converrà anche lei, alla sua età e nelle sue condizioni di salute? Perlomeno tutto ciò è stato così inatteso che la nostra meraviglia è ben comprensibile. Ma io ne sono così felice. E noi tutti! E così dicendo si illuminava ad un sorriso entusiasta e adulatorio. Noi tutti ci sforzeremo in ogni modo di farle passare il tempo del suo soggiorno nel modo più gradevole. Ma sì, basta. Sono tutte chiacchiere e nient'altro. Hai dato fiato alla bocca come il tuo solito. Saprò benissimo cavarmela da sola. Del resto io non vi respingo. Non ho nulla contro di voi. Tu mi domandi sempre come mai sono venuta. Ma che c'è qui di straordinario? Sono venuta nel più semplice dei modi e che hanno mai da meravigliarsi tutti quanti. Buongiorno, Prascovia. Cosa fai tu qui? Buongiorno, nonna, ha risposto Polina avvicinandosi. È un pezzo che è in viaggio? Ecco, vedete? Questa ha fatto la domanda più intelligente e gli altri invece... Oh, come mai? Sai com'è andata? Io stavo sempre a letto e i medici non facevano che curarmi. Allora io ho cacciato via tutti i dottori e ho chiamato il sagrestano di San Nicola. Lui aveva già guarito una donna dalla stessa malattia con della polvere di fieno. Beh, ha guarito anche me. Il terzo giorno ho fatto una gran sudata e mi sono alzata. Allora tutti quei tedeschi si sono riuniti di nuovo, si sono messi gli occhiali e si sono messi a consigliarmi ecco, se lei se ne andasse ora all'estero a far la cura delle acque, l'infezione sarebbe completamente sconfitta. E perché non dovrei andare? Ho pensato io. Quegli sciocchi degli zagighi non facevano che gridare ma dove vuole arrivare e invece eccomi qua. In un solo giorno mi sono preparata e il venerdì della scorsa settimana sono partita prendendo con me la governante Potapic e il lacchè Fiodor. Ma poi quel Fiodor l'ho rimandato indietro da Berlino perché tanto ho visto che non ce n'era nessun bisogno di lui e sarei arrivata anche da sola. Ho preso un vagone speciale e a tutte le stazioni c'erano facchini che per quattro soldi ti portano i bagagli dove vuoi. Ma guarda un po' che bel appartamento avete preso. Ha concluso la nonna guardandosi intorno. E con quali soldi lo paghi, bambino? Se ti sei già impegnato tutto quanto. Soltanto tutti i soldi che devi a questo francesino tanto. Io so tutto. Tutto. Ma io, zietta, ha cominciato a dire il generale tutto confuso. Io davvero mi meraviglio. Mi sembra che anche senza il controllo di nessuno io posso benissimo. Del resto le mie spese non superano i mezzi di cui dispongo e noi qui non superano i tuoi mezzi. L'hai detta proprio buona. Ormai avrai spogliato i tuoi figli anche dell'ultimo soldo. Bel tutore che sei. Dopo questo, dopo aver sentito certe parole, certo io non so più. Ha ripreso a dire il generale bollente di sdegno. Ah non lo sai eh? Qui naturalmente non ti staccherai dalla roulette. Hai scialacquato già tutto? Il generale era così sconvolto che boccheggiava come un pesce, incapace di dominare l'indignazione. Io? Alla roulette? Con il mio grado? Io? Ritorni in sezietta. Lei evidentemente ancora non sta bene. Chiacchiere. Tutte chiacchiere. Sono sicura che non c'è modo di staccartene. Non fai che mentire. Oggi stesso voglio andare a vedere che roba è questa roulette. Tu, Praskovia, raccontami cosa c'è da vedere qui attorno. Alexei Ivanovich ci accompagnerà. E tu, Potapic, prendi nota di tutti i posti dove si può andare. E allora cosa c'è da vedere qui? Ha aggiunto, rivolgendosi bruscamente a Polina. Qui vicino ci sono le rovine di un castello e poi c'è lo Schlangenberg. E cos'è questo Schlangenberg? Un bosco? No, non è un bosco, è una montagna con la sua guglia. Cosa sarebbe questa guglia? È il cocuzzolo più alto della montagna, tutto recintato. Di là c'è una vista incomparabile. E ci si può trascinare la mia poltrona su quella montagna? Credi che mi ci porterebbero? Beh, si possono trovare dei portatori, ho risposto io. In quel momento Fiedosia, la bambinaia, si è accostata alla nonna per salutare, conducendo con sé i bambini del generale. Non mi piace sbaciucchiare i bambini. E poi che ragione c'è di far tante smorfie? Tutti i bambini sono mocciosi. Tu come ti trovi qui, Fiedosia? Qui si sta molto, molto benino, mammina nostra Antonida Vasilevna, ha risposto Fiedosia. E voi come ve la siete passata, mammina? Siamo stati tanto in pena per voi. Lo so, mia cara, tu sei un'anima semplice. E questi qui chi sono? Tutti ospiti vostri? Ha aggiunto subito la nonna, rivolgendosi di nuovo a Polina. Chi è quel soldo di caccio con gli occhiali? È il principe Nilsky, nonna. Gli ha sussurrato Polina. Ah, un russo? E io pensavo che non mi capisse. Chissà, forse non ha sentito. Mr. Astley? L'ho già visto. Eccolo qui di nuovo. Ha aggiunto la nonna scorgendolo. Buongiorno, ha esclamato, rivolgendosi improvvisamente a lui direttamente. Mr. Astley si è inchinato, in silenzio. Beh, che cosa mi dice di bello? Su, mi dica qualcosa. Traduci, Polina. Polina ha tradotto. Le dica che sono molto felice di vederla e mi rallegro che sia in buona salute. Ha risposto Mr. Astley con perfetta serietà e straordinaria prontezza. La frase è stata tradotta ed evidentemente è piaciuta molto alla nonna. Come sanno sempre rispondere bene gli inglesi. Ha osservato. Chissà perché gli inglesi mi sono sempre piaciuti. Non c'è confronto tra loro e questi francesini. Venga a trovarmi. Ha aggiunto, volgendosi di nuovo a Mr. Astley. Cercherò di non annoiarla troppo. Traduci, Polina, e digli che io sto qui sotto. Qui sotto. Ha capito? Sotto. Sotto. Ha ripetuto la nonna più volte indicando in basso con il dito. Mr. Astley è parso straordinariamente contento dell'invito. Quindi la nonna si è rivolta verso Polina e l'ha ispezionata da capo a piedi con uno sguardo attento e compiaciuto. A te, Prascovia, ti vorrei bene. Ha esclamato tutto a un tratto. Sei una brava ragazza meglio di tutti loro. Ma anche tu hai un caratterino. Beh, veramente ce l'ho anch'io. Voltati un po'. Non porti mica i capelli finti? No, nonna. Sono miei. Meno male. Non mi piacciono queste stupide mode di oggi. Sei molto bella. Se fossi un uomo, mi innamorerei di te. E perché non ti sposi? Beh, però ora devo andare. Ho voglia di andare un po' in giro. Sono sempre stata chiusa in quel vagone. Beh, e tu sei ancora arrabbiato? Ha esclamato, rivolgendosi al generale. Ma no, zietta, ma che dice mai? Ha replicato subito il generale, tutto allegro. Io la capisco alla sua età. «Sette vieille et tombé en enfance», mi ha sussurrato de Griot. «Voglio visitare tutto qui intorno. Mi cedi, Alexei Ivanovich», ha ripreso a dire la nonna, rivolta al generale. «Oh, certo, quanto vuole. Ma del resto io stesso, e Polina e Monsieur de Griot. Per tutti noi sarà un vero piacere accompagnarla. Ma madame, cela sera un plaisir», ha assicurato de Griot, sfoderando un affascinante sorriso. «Senti, senti, un plaisir. Mi fai ridere tu, caro mio. Del resto soldi non te ne darò», ha aggiunto bruscamente, rivolta al generale. «Beh, adesso andiamo nel mio appartamento. Ci voglio dare un'occhiata e poi andremo da tutte le parti. Su, alzatemi!» La nonna è stata sollevata e tutti quanti, in corteo, ci siamo avviati giù per la scala.